Inferno canto 33 Quando abbia detto ciò, con gli occhi torbi, ripresi il teschio misro codenti, che furo all'osso come d'un can forti. Parafrasi Quando abbia detto ciò, con gli occhi torbi, afferro di nuovo il misro teschio, con i denti, che contro l'osso mostro forte come quello di un cane. Commento Dante si trova nel canto 33esimo dell'Inferno, nel quale sono puniti i traditori della patria. Qui incontra il conte Ugolino, il quale, dopo aver raccontato la sua vicenda, torna a rodere il teschio dell'arcivescolo Ruggeri. Il gesto del conte Ugolino riflette tutto il dramma di un uomo e soprattutto di un padre che ha visto morire i propri figli davanti ai suoi occhi. Infatti, Dante, con il racconto del conte, vuole porre l'accento sulla violenza esercitata contro gli innocenti nell'ambito delle lotte politiche. Che colpa avevano i figli del conte Ugolino se il padre si era amicchiato di tradimento? Inoltre, Dante vuole sottolineare come il dolore e l'odio possono portare ad avere un atteggiamento più bestiale e umano, perdendo ogni forma di dignità e di rispetto.